bella barbie farfalla interessante non male queste scarpine va bene siamo arrivati a san remoni com'è tutt'appo abbiamo un po di febbriciattola proprio perfetti appena arrivati va bene ma adesso si riprende nina si riprende perché fortissima ciao ciao ma cosa ci fai qualche tuo sanremo che si è un po logorroica mi ricordi qualcuno ti do un bacio amore ma ciao